BOMBA ENERGETICA! VAI! BRUTTA PESTE MI HAI DISINTEGRATO IL VESTITO! OH NO E' ANCORA VIVO! ONDA DEDO! QUI DENTRO DOVREBERO ESSERCI LE SFERE DEL DRAGO LA MIA MISSIONE E' RITORNARE DAL GOVERNATORE RED COSI CONCIATO! DOVRO ANDARMI A COMPRARMO UNO STRACIONE! DOPO DI CHE... PAPA! PERCHE PIANGI? NON SEI FELICE CHE NON TI HA TORTO UN CAPPELLO? SEI FORTUNATO! NON SEI valor